Le noci e Petitti, l'impressione è che daranno una grossa mano a Lisernia. Sì, 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 ma il valore dei due nuovi compagni di squadra si è visto fin da subito. Sono ragazzi mentalizzati, quello che ci serviva, hanno delle grandi qualità anche tecniche, oltre che umane, quindi sono sicuro che da qui alla fine ci daranno una grossa mano, però si è capito fin da subito. L'Isernia ha ora 16 punti, l'obiettivo era arrivare a 20 al giro di Boa, mancano due partite, Francavilla e la capolista Matelica. Un pronostico? No, è che questo giro non è impossibile fare pronostici. Sicuramente sono due partite difficilissime, toste, che noi sicuramente affronteremo con il massimo impegno e proveremo a giocarcela fino alla fine. Chiaramente il rispetto è maggiore, perché sono squadre che navigano nella parte alta della classifica, però noi ci proveremo, come stiamo facendo del resto da quando è iniziato il campionato, proveremo anche con loro a giocarci la partita fino in fondo. Grazie. Grazie. Grazie.